Ma lei con la sua qualità saprà rinventarne una, mi immagino, sennò che... Adesso arriva, volevo sapere se e quando lei conta che tutti quanti a disposizione mi riferiscono a disposizione del Mondiale, ma soprattutto se le condizioni fisiche di Silvio danno garanzie per la ripresa del campionato oppure per l'aguardarsi intorno? Allora, si fa più 15 da quando sono usciti dai Mondiali e si va facilmente ad identificare quando risaranno a disposizione nostra i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, perché in base a quando sono usciti gli si danno due settimane di pausa e poi si rialleneranno con noi. Silvio noi ci rende tranquilli il fatto che lui si stia allenando bene e che sia lì per riavvicinarsi a rientrare, se poi gli dovessero venire fuori altri problemi è chiaro che probabilmente delle valutazioni verranno fatte, però se le cose scorreranno normalmente noi siamo abbastanza tranquilli.